Verso il 7 bello, il Lecce di Lerda ci ha preso gusto e non vuole interrompere la striscia di vittorie consecutive arrivata a 6 dopo l'imposizione sul Martina in Coppa Italia. Con i titolari o con i giovani talenti la formazione giallorossa ha dimostrato di aver assimilato il credo del mister. Ricerca continua del successo senza accontentarsi mai. Il nuovo esame si terrà a Como al Sinigaglia dove dovrebbe rientrare esposito nel cuore della difesa. Il centrale di Galatina ha saltato la gara con la Trizium a scopo precauzionale, dopo il riacutizzarsi del dolore alla caviglia colpita duramente a Treviso. In campo dovrebbe andare così lo stesso Undici che ha sbancato il Tenni, davanti a Benassi, Vanin, Dinitz, Esposito e Tomi, De Rosa e Memushai in mediana con Chiricò, Bogliasino e Falco alle spalle di Pia. I sorteggi di Coppa Italia hanno intanto stabilito che la gara con la Nocerina, valida per il secondo turno, si disputerà in terra campana. Roberto Di Maio tornerà così nello stadio che lo ha visto protagonista di mille battaglie, pochi giorni dopo l'addio tanto doloroso per la piazza rossolera. La gara ad eliminazione diretta si disputerà il 17 ottobre, pochi giorni dopo il processo sportivo dinanzi al TNAS. Il 12, infatti, il Lecce e l'ex presidente Pierandrea Semeraro saranno in udienza con la FIGC, il Vicenza, la Lega DB e la Lega Pro. Peccato che nel frattempo si saranno giocati già sei turni di campionato. L'unica consolazione e non da poco è che il Lecce sul campo sa fornire soltanto una risposta.